Le teste di serie sono la numero 1 Gimeno Traver, la 2 Ungur, la 3 Raffin, la 4 Veseli, la 5 Struth, 6 Volandri, 7 Utagrand e 8 Kapsic. Abbiamo posizionato la 1 e la 2, adesso solteggiamo la 3 e la 4. La prima solteggiata è sulla linea 9, la numero 3, il Raffin. La numero 4 va sulla linea 24 ed è Veseli, Giri, Giri. Ora solteggeremo dalla 5 alla 8, la prima solteggiata è sulla linea 8, numero 8 alla linea 8, Blas Kapsic. La seconda solteggiata è la linea 16, la 6, Filippo Volandri. La prossima è la linea 17, il numero 7, Jesse Utagaru. E' la numero 5, l'ultima che era numero 5, la sulla linea 25. e ora è facile perché andiamo dal più fortunato la prima sorteggiata si giocherà con la testesina numero 1 Gimeno Traver e la numero 26 Alessandro Gianness numero 32 qualificato linea 3 numero 20 la linea 4 Jonathan Essery linea 5 qualificato 30 linea 6 11 Alexander Nedo Jesus 11 12 12 12 13 13 14 15 15 16 16